Il Tar regionale ha rispinto il ricorso di due donne di Bore che volevano accedere agli atti della realizzazione di un impianto fotovoltaico in un appezzamento di terreno di fianco a loro. È previsto nella nostra regione un mese di sciopero nel settore poste, lo hanno comunicato i sindacati CIS, LUIL e CONSAL denunciando gravi e continue inadempienze aziendali. Il Comune di Valmozzola ha stipulato una convenzione con la scuola per garantire il posto in modo corretto senza l'ingresso di operatori privati come avviene in altre scuole parmensi. Cambio della guardia nel Consiglio Comunale di Valmozzola, Giovanni Cupri della minoranza si è dimesso e al suo posto subentra il giovane Stefano Del Nevo classe 1987. Tutti in campo sabato pomeriggio per sostenere la Lilt e lanciare un messaggio importante, i tumori si possono sconfiggere. Per l'occasione è stata organizzata un'applaudita sfilata di moda. Il Consiglio Comunale di Berceto ha sostituito il revisore legale del Comune al posto di Nicola Cattaneo, dimissionario, è stata nominata Ivana Pomelli di Parma. Un sostegno per il polo telematico formativo di Borgotaro è giunto dalla fondazione Cariparma, ha segnato il contributo per garantire lo sviluppo della struttura. Buonasera telespettatori di RTA, ben trovati come di consueto all'informazione locale. Apriamo subito con la cronaca. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso di due donne di Bore, proprietaria di un appezzamento di terreno confinante con l'aria dove dovrà sorgere un nuovo impianto fotovoltaico. Le due signore il 22 aprile scorso avevano chiesto al Comune di poter accedere agli atti relativi alla realizzazione dell'opera, ma Lenti aveva negato questo accesso. Quindi le donne si sono rivolte alla sezione parmigiana del Tare, che però ha respinto il ricorso, ritenendo legittime le motivazioni adottate dal Comune di Bore. Voltiamo pagina e parliamo di uno sciopero che si protrarrà sino al 30 ottobre, indetto dalle organizzazioni sindacali nel settore delle poste. Sentiamo le motivazioni. È previsto un mese di sciopero alle poste della Regione Emilia-Romagna sino al prossimo 30 ottobre. I sindacati CISL, Will e Consal denunciano infatti gravi e continue inadempienze aziendali in merito alla disponibilità immobiliare, mezzi di trasporto, sicurezza, strutture operative, nonché rete dei collegamenti e copertura degli organici. La carenza degli organici, una piattaforma tecnologica non adeguata e difficoltà operative negli uffici. Inoltre l'azienda rifiuta pochi euro di aumento per il rinnovo del premio di risultato nel triennio 2011-2013. A fronte di un bilancio positivo di oltre un miliardo di euro, senza contare la totale assenza di informazioni alla clientela negli uffici e impianti della nostra Regione in merito allo sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali SLP CISL, Will e Poste, Confalse e UGL, nonostante l'obbligo imposto dalla legge. E sempre la CISL, però la rappresentanza sindacale della CISL Scuola di Parma dell'Istituto Comprensivo di Fornovo esprime il proprio compiacimento per il fatto che l'amministrazione comunale di Valmozzola ha deciso di stipulare una convenzione con l'istituzione scolastica finalizzata a garantire il momento didattico del pasto in maniera corretta e senza che avvenga l'ingresso di operatori privati i quali in altre scuole parmensi vengono chiamati in modo improprio a sostituire i docenti e i collaboratori scolastici dopo che queste figure professionali sono state ridotte a causa dei ormai famosi tagli. Salvatore Pizzo, rappresentante della CISL Scuola nell'Istituto Comprensivo di Fornovo, ringrazia gli amministratori di Valmozzola che si sono prodigati offrendo risorse economiche dell'ente per aiutare la scuola e facendo così in modo che con i bambini rimanessero gli unici professionisti a ciò abilitati dallo Stato così come la CISL aveva sollecitato e auspicato. E restiamo a Valmozzola, c'è un cambio della guardia all'interno delle fila della minoranza consigliare. Cambio della guardia all'interno della minoranza del comune di Valmozzola. Il capogruppo di opposizione Giovanni Cupri si è dimesso lasciando il posto al giovane Stefano Del Nevo. Candidato sindaco nelle ultime due elezioni e con alle spalle precedenti esperienze in consiglio comunale, Cupri ha deciso di passare la mano per favorire il rinnovamento. Sono tantissimi anni che io mi sono occupato di politica qui nel comune di Valmozzola, ho fatto sempre l'opposizione e non è che abbia grandi dichiarazioni da fare. Penso che a un certo punto della vita, amministrativa e anche della vita fisica, si deve essere in ricambio. Io l'ho fatto soprattutto per favorire nuove esperienze che entrano in amministrazione e in questo modo credo di garantire anche il proseguimento della politica che noi abbiamo proposto in questi anni qua. Nato nel 1987, Stefano Del Nevo diventa uno dei più giovani consiglieri comunali della Valtaro Valceno e si appresta ad affrontare questa nuova esperienza. Intanto ascoltando la gente che è nella mia parte della frazione, a Valmozzola stazione, abbastanza che siamo una parte del comune, ascoltando anche le problematiche della mia parte del comune e comunque vagliando sia con l'opposizione che con la mia parte politica. Essendo sempre nella stessa parte, nelle stesse problematiche, cercheremo di quagliare, di trovare delle soluzioni ai problemi di questo periodo. Ed ora siamo allo spazio Ausle Informa, molto ricco questa sera, iniziamo però con la bella sfilata di moda che è stata organizzata a Borgotaro a sostegno della Lilt. La Lilt ha chiamato Borgotaro a risposto ed ha risposto in modo corale, non solo con le associazioni di volontariato specificatamente impegnate nella lotta alle malattie, oncologiche, ma anche con l'amministrazione comunale, l'azienda USL, le scuole, l'associazione commercianti e soprattutto con i tanti, tantissimi cittadini che hanno assiepato Piazza Manara per far da cornice ad una manifestazione che utilizzando una sfilata di moda si proponeva lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione dai tumori. Perché questa era la vera finalità, anche se la sfilata è stata piacevole e molto ben organizzata, con 14 negozi di abbigliamento che hanno presentato la propria linea autunno-inverno e i modelli che, sebbene non professionisti, si sono calati nella parte con estrema convinzione. Gli studenti dello Zappa Fermi hanno sfilato dapprima con l'abbigliamento sportivo, quindi con quello casual ed infine con i capi classici. Tutti bravissimi, anche se il momento più caloroso si è avuto nel finale, con la sfilata dell'abbigliamento per bimbi. Serissimi e composti, i piccoli indossatori sono riusciti a catturare la simpatia del pubblico scatenando l'entusiasmo dei presenti. Pomeriggio bellissimo, riuscitissimo, grazie all'impegno dell'Associazione del Volontariato che insieme alla Lilt hanno organizzato questo evento simpatico ma altrettanto significativo, dedicato alla prevenzione, dedicato al Mese Rosa appunto per l'informazione e la prevenzione dei tumori. Un'iniziativa importante che ha visto ancora una volta insieme tutta la comunità borgotarese che ha risposto, ha risposto numerosa, ha risposto convinta, speriamo anche risponda in termini di impegno per la prevenzione. E proprio sulla necessità di osservare le pratiche preventive hanno insistito i medici che sono intervenuti all'inizio della manifestazione perché, è stato detto, oggi con le malattie oncologiche si può convivere. Ho sentito un oncologo in lustre dire che lo scopo è quello di cronicizzarla, vuol dire poter vivere e controllare tutti i problemi che può dare questa malattia senza averne paura, questa è una delle cose principali. Il nostro scopo è questo ed è quello soprattutto di divulgare quest'idea. Abbiamo ambulatori che lavorano gratuitamente, non occorre neanche la prescrizione del medico, basta telefonare per prenotarsi. Purtroppo, troppo spesso, la gente non viene, non viene perché ha forse paura di sentirsi dire di avere questa malattia, ma non è così. La prevenzione che si fa soprattutto, anzi, principalmente attraverso la diagnosi precoce è fondamentale. Oggi si può guarire, in molti casi, nella maggior parte dei casi, se si ha una diagnosi precoce. che è la ditta Big Shop, abbigliamento, 012, accessori per l'infanzia. Abbiamo dei casi che hanno concavito, facciano un'unica, facciano un'unica, facciano un'unica di strada, perciano un'unica di strada, la ditta è quale, strada, perciano un'unica di strada. Nel prossimo servizio torniamo a parlare della giornata nazionale contro il dolore che si terrà in ben 29 piazze italiane domenica prossima, 16 ottobre. A questa iniziativa aderiscono anche azienda USL, ospedale Santa Maria di Borgotaro e l'ospis La Valle del Sole di Borgotaro. Domenica prossima, 16 ottobre, l'azienda USL, l'ospedale di Borgotaro e l'ospis La Valle del Sole aderiscono all'iniziativa promossa dalla Fondazione ISA, l'Istituto di Ricerche e Formazione in Scienze Algologiche e Melinda, dal titolo Insieme contro il dolore. Medici del Santa Maria e i volontari dell'ospis saranno con un gazebo in Piazza Verdi, a Borgotaro, dalle 10 alle 17, a disposizione dei cittadini per fornire materiale informativo sul dolore cronico e presentare i servizi specializzati offerti. L'iniziativa, che si tiene contemporaneamente in altre 29 piazze d'Italia, è finalizzata anche alla raccolta fondi destinati da ISAL alla ricerca. Con un'offerta di 5 euro minima sarà possibile acquistare mele Melinda. Il dolore cronico, che ha un forte impatto sulla qualità della vita, colpisce in Italia oltre 12 milioni di persone, il 20% della popolazione attiva del nostro paese, in particolare donne. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. Prosegue e anche intensamente l'attività degli spettorati micologici dell'azienda USL nel nostro distretto sanitario Valli, Taro e Ceno per riconoscere le specie di funghi che vengono presentate da chi li raccoglie oppure da chi li deve vendere. Sentiamo. Prosegue l'attività degli spettorati micologici del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL per la certificazione sanitaria per la vendita al dettaglio e alla somministrazione dei funghi freschi spontanei e per il riconoscimento delle specie fungine raccolte per il consumo diretto. Non esistono infatti metodi empirici per riconoscere i funghi commestibili come ad esempio le prove dell'argento, dell'aceto e del latte. L'unico modo per essere tranquilli è quello di far controllare i funghi dagli spettori micologi dell'AUSL. Il servizio è gratuito. L'ispettorato di Borgotaro in via Micheli 2 per la certificazione di vendita e somministrazione bisogna prendere appuntamento chiamandolo 0525 970 266 970 324 970 326 Per la certificazione di commestibilità per l'autoconsumo il servizio è diretto. È sufficiente presentarsi il lunedì dalle 8 alle 10, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8 alle 10 e dalle 14.30 alle 17.30. Per ottenere la certificazione sanitaria per la vendita al dettaglio e la somministrazione, i funghi presentati al controllo devono essere suddivisi per specie contenuti in cassette o altri imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere disposti su di un solo piano e non eccessivamente pressati. Devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio, foglie e da corpi estrani. Per il riconoscimento delle specie fungine per il consumo diretto, i funghi devono essere presentati alla vista in contenitori rigidi e forati. Devono essere freschi, sani, in buono stato di conservazione, interi, non lavati né privi di parti essenziali al loro riconoscimento. Devono provenire da aree non sospette disposizioni a fonti di inquinamento chimico o microbiologico. L'intero quantitativo raccolto deve essere sottoposto all'esame di commestibilità nel più breve tempo possibile. E con Ausle in forma di questa settimana è tutto.